Buonasera, sono lo chef dell'antico convento Parco Tè qui di Pistoia, siamo presenti con lo stand a Pistoia per Toscana in Bocca, porteremo il nostro piatto si chiama il cacciucco di terra che è un piatto medievale fatto con diverse carni bianche, rosse e anche volatili e lo presenteremo a Toscana in Bocca. Grazie a tutti.